Finalmente si conclude questa opposizione di Marte dal segno dello Scorpione, quindi voi ritrovate un po' più di tranquillità, di serenità. Certo, magari in questa giornata ancora non sarà evidente questo cambiamento, anche di passo, da parte vostra, perché c'è una luna birichina nel segno dell'acquario, è una luna che vi mette di pessimo umore, però voi dovete cercare di essere ottimisti perché con Marte in questa nuova posizione per voi sono in arrivo finalmente delle rivincite. Andiamo al segno.